La professoressa Deborah Howard dell'Università di Cambridge parlerà della rappresentazione del mare nelle fonti iconografiche. Prego. Grazie per l'invito. Mi fa onore essere presente in questo convegno di grande interesse, forse troppo interesse in questo momento fragile della città. Mi sentite? I miti sulla fondazione della città di Venezia sono intrecciati nella sua iconografia pittorica. Al centro della prima cupola del ciclo della Genesi, nel nartice della Basilica di San Marco, la creazione del cielo e della terra si svolge in alto. La scena della separazione della terra dal mare funge da metafora per la fondazione di Venezia, nata dal mare, il cui terreno deriva dalla bonifica dalle palude della laguna. Cito dalla Bibbia. Dio disse, le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. Fine citazione. A differenza di altre città portuali come Genova e Napoli, il porto di Venezia non è una baia abbracciata dalle coline, ma l'intera città sembrava essersi gettata in mare dalla terra ferma. Nel XVI secolo, l'umanista Ignazio Danti descriveva ancora la città come, cito, fondata sull'acqua, circondata dall'acqua con pareti fatti, fatte di acqua. Fine citazione. E le sue parole si trovavano citate all'esterno della sede dei savi delle acque. Le acque poco profonde e salate della laguna non solo proteggevano la città dalle invasioni, ma permeavano l'intero sito. E ovviamente non devo sottolineare questo punto ai nostri giorni. purtroppo. Come osservato San Udo, la città tra le fluttuose onde del mar sta in mezzo il vertice del pelago quasi come regina. Fine citazione. Ma il sito anfibio ha effetti sia positivi che negativi. Anche se il lido protegge la laguna dal mare, questo rimane un ambiente marino soggetto a tornadi e acque alte. Il flusso e il riflusso del mare svuotano i canali e impediscono all'acqua di stagnare, ma al contempo scorrono anche nel sottosuolo sabbioso, causando lo spostamento continuo delle fondamenta degli edifici. Tuttavia, la presenza del sale marino in passato aveva anche un aspetto benefico per l'edilizio della città, nel senso che le tasse sul sale permettevano il finanziamento per la costruzione di progetti statali. Dunque, la polarizzazione fra gli effetti positivi e negativi della presenza del mare caratterizza l'intera cultura marittima della città, quella visiva inclusa. All'interno della laguna Veneta, i confini fra terra e mare sono spesso mal definiti. Le marei segnalano le ore del giorno, ma i loro limiti spaziali sono piuttosto ambigui. Numerosi banchi di sabbia o paludi esposti dalla bassa marea cambiano forma e dimensioni in base alle variazioni naturali dei livelli dell'acqua. Nel passato, le basse maree esponevano paludi fangosi sulle rive della città e persino lungo il canale grande, come abbiamo sentito stamattina su Ca' Foscari, prima che i suoi confini si consolidassero nel XVI secolo. I cartografi trovarono modi ingegnosi per rappresentare queste zone intermedie. In questa mappa dell'isola di Sant'Elena, la palude è punteggiata e il movimento delle marei è indicato da pennellate fluenti. Si vede che il rio che entra qui è indicato con queste linee. Il famoso progetto di Cristoforo Sabadino nel 1557 mostra il suo piano per creare margini solidi per tutta la città in preparazione di un'ulteriore bonifica del territorio. La vita in mare era emozionante e avventurosa. Marin Sanudo ha osservato nella sua descrizione della città di Venezia nel 1493, cito, e è da sapere che i veneziani, così come sono stati nel principio mercadanti, così ogni anno seguono. Ma c'erano anche enormi pericoli legati alla pirattaria, al naufragio e alla guerra, per non parlare dell'estorsione e delle controversie sulle tariffe. In questo senso il commercio era una specie di gioco d'azzardo molto rischioso. I commercianti dovevano, i mercanti dovevano accettare che la loro sorte dipendesse dalla fortuna, dal destino e dalla volontà di Dio. Quindi la religione era intimamente legata all'impatto psicologico del commercio. Negli anni 70 del 400, Benedetto Sanudo ricordò a suo fratello Andrea, che stava per partire per Alessandria per la prima volta, cito, «arrai di continuo innanzi gli occhi il timor del nostro Signor Gesù Cristo e cercare di non offender la sua maestà in cosa alcuna con dire ogni giorno il tuo ufficio e la tua corona». Finne citazione. Abbondavano le superstizioni, come sappiamo, dalle narrazioni dei pellegrini. La vista dei delfini in mare era considerata un segno di fortuna, mentre le tempeste, le peste e i terremoti, a quanto pare portatori dell'ira divina, provocavano terrore a bordo della nave. In che modo gli artisti veneziani potevano trasmettere l'impatto multisensoriale del mare? Nell'arte, l'impatto multisensoriale, il suono delle onde, l'odore delle alghe, il gusto salato e il movimento del mare, dovevano essere evocati attraverso gli occhi. Nelle immagini, la mobilità delle onde diventava fissa e i colori del mare, sempre diversi, ne rimanevano invariabili. Nel firmamento dorato della creazione della cupola della Genesi, già vista, le acque sono azzurre e le onde sembrano delle lucicante anguille che serpeggiano avanti e indietro. Poi, verso il perimetro della cupola, la storia della creazione si avvicina all'esperienza umana. Qui, la creazione dei pesci assomiglia a una bancarella al mercato di Rialto, nonostante il mostruoso cavoluccio marino al centro. I materiali del mosaico, rigidi e quindi non dutili, protebbero sembrare strane alla rappresentazione di un mezzo liquido, ma il lucicchio sulle tessere di vetro aiuta ad animarne la superficie. È assai significativo che il ruolo centrale del mare nella coscienza veneziana sia incapsulato proprio al centro della Basilica di San Marco. Ho scelto questa vecchia foto perché fa vedere qui quest'area che si chiama il mare. Sotto la cupola dell'accensione si trova un grande rettangolo pavimentato in enormi lastre di marmo proconesiano di colore grigio-verdastro-palido tagliato al libro per suggerire le onde. Conosciuta come il mare, almeno dal XVII secolo e forse prima, questa superficie acquosa brilla come una piscina. È come se il mare fosse stato imprigionato in una cisterna virtuale per il beneficio spirituale della città. La cattura strata del mare nel cuore del dominio spirituale della Repubblica è ricca di potenti simbolismi. Infatti, l'intero pavimento a mosaico è pieno di associazioni marine e l'attuale superficie ondulata causata da secoli di movimento sottoterraneo aumenta la sensazione acquosa. Nel suo recente libro su Hagia Sophia Bissera-Penceva riflette sulla natura acquosa del pavimento di marmo proconesiano della grande basilica bizantina di Costantinopoli. La studiosa associa l'animazione tremolante della superficie alla dicesa di Neuma per ravvivare la materia inerte con lo spirito. invocando le frasi di Paolo Isilente in cui l'acustica riverberante evoca ciò che la Penceva chiama teofania liquorosa. Fabio Bari ha esplorato la teoria di Aristotele ripresa da vicenda secondo la quale l'acqua possa essere trasformata in pietra. Sia Bari che Penceva esplorano la connessione linguistica le connessioni linguistiche tra mar e marmor. Anche la parola mormorio deriva dalle stesse radici e Penceva confronta il suono del canto umano con lo scintiglio del marmo. Molto più tardi il diarista Marinsanudo usava la parola mormorazione per descrivere i mormori di malcontento che si diffondevano in città come una marea crescente. Per tornare a San Marco il polimorfismo che collega il marmo l'acqua lo spirito le voci e l'iridiscenza linguisticamente e sensorialmente crea un quadro entro il quale visualizzare il mare di San Marco il mare in citazioni ovviamente l'incrocio al centro della basilica è il luogo in cui nell'annuale Messa di Pasqua il doge chiedeva di vedere il corpo di Cristo in questo punto del rituale liturgico il sepolcro pasquale nel transetto nord veniva dichiarato vuoto e l'intera basilica esplodeva con il gioioso mortetto Resurrexit quindi in piedi sul lucicante sul lucicante mare il doge e i suoi compagni anticipavano l'ascesa di Cristo figurata nella cupola al di sopra dell'incrocio l'ascensione che si svolge 40 giorni dopo Pasqua ovviamente è la manifestazione ultima del trionfo di Cristo a Venezia la festa del senso era non solo l'occasione della famosa fiera annuale in piazza San Marco ma anche come sapete tutti quella del rituale dello sposalizio il matrimonio del doge con il mare in questo caso i generi i generi maschile e femminile di Venezia e del mare a mio avviso sono ambigui Edward Muir nel suo libro Civic Ritual in Renaissance Venice insiste sul fatto che la sposa è il mare la mère il mare la mère femminile come nella narrativa francese di Martino Canale nel 1267 che verrà data in sposa al doge maschio eppure Venezia la serenissima è naturalmente femminile e nel 1285 Salim Benede Adam collegò il rituale dello sposalizio a un sacrificio pagano dedicato a Nettuno il dio maschio del mare le personificazioni mitiche e religiose di Venezia sottolineano la sua essenza acquatica nata dal mare come venere e simbolo della stella mares come la vergine secondo il popolare inno dell'ottavo secolo ritornando a San Marco la narrazione del dodicesimo secolo del trasporto delle reliquie di San Marco da Alessandria a Venezia nella cappella di San Clemente mostra una delle prime raffigurazioni veneziane di un viaggio marittimo qui le onde sono indicate da grappoli di linee grigie scure fluenti i cui torbini vagano lievemente contro la superficie della nave forse si si distinguono qui al di sopra della nave stessa per suggerire la trasparenza dell'acqua a causa della presenza miracolosa di San Marco tra i marinai il moto ondoso non è minaccioso e la barca naviga sicura alla fine del tredicesimo secolo nei mosaici sulla volta della cappella zen adacente all'atrio San Marco viene rappresentato ancora vivo mentre naviga verso Alessandria il porto identificato dal suo famoso faro anche qui le onde prendono la forma di linee fluide ma in questo caso sono bianche su uno sfondo grigio verde ogni onda emerge dalla precedente per spingere la barca da sinistra a destra la destinazione riconoscibile e familiare per i mercanti veneziani d'oltremare rende l'esperienza del viaggio naturale e plausibile nel suo trattato della milizia marittima cristoforo da canal rifletteva sul rapporto fra le dimensioni della nave e la lunghezza dell'onda del moto ondoso una barca che poteva cavalcare tre onde contemporaneamente era più sicura nel dipinto di lorenzo veneziano le onde verdi strettamente arrottolate come lumacche gigantesche sembrano spingere san pietro nelle mani confortanti di Gesù che sta in piede sull'acqua i duri tratti ondulati per rappresentare le onde in questi mosaici furono impiegati anche dagli scultori come si vede nel medaglione della giustizia sul palazzo ducale e sulle basi in bronzo di alessandro leopardi erette per i penoni davanti a san marco nel 1505 in tutti e due questi casi si distinguono dei delfini simbolo della fortuna a differenza dell'Inghilterra e dei paesi bassi Venezia non ha mai prodotto una scuola di artisti di genere marino anche se molti pittori hanno trovato materia affascinante nelle navi rappresentazioni elaborate di vari tipi di navi nel ciclo di Sant'Orsolo del Carpaccio ricordano il significato dei riti di imbarco e di sbarco nella vita veneziana tuttavia Carpaccio non era molto interessato alla rappresentazione materiale del mare stesso l'immagine più poetica di Carpaccio si trova nella sua caccia nella laguna dove un cielo chiazzato di nuvole illumina la superficie latiginosa delle acque ma questo quadro rappresenta un contesto assai benigno e familiare come per sottolineare la polarizzazione fra forze buone e cattive già sottolineate in precedenza i soggetti marini nell'arte veneziana rientrano in due categorie quelli in cui i pericoli della gente di mare provocano terrore e quelli che raffigurano paesaggi marini tranquilli e illuminati dal sole la dicotomia incapsula l'ambivalenza veneziana sul mare questa fonte di ricchezza e di fortuna il mare può anche essere il teatro di disastro totale a borde della nave la tensione tra il destino e la fortuna è sempre presente e la sorte dei marinai appare assegnata all'intervento divino come una specie di giudizio universale che si riveli sulle onde come abbiamo visto nei mosaici di San Marco i soggetti biblici e le storie sulla traslazione delle reliquie del santo hanno permesso rappresentazioni drammatiche di avventure marine un affresco di una nave colta nel mezzo di una tempesta dipinta sul muro della sala capitolare della scuola dei Calagheri a San Tomà creato intorno al 1490 1500 come sapete ovviamente adesso biblioteca come vedete dimostra come gli eventi marini toccassero persino la vita dei calzolai nella loro scuola poiché il calzolaio aniano era stato curato da San Marco ad Alessandria la scena raffigura la traslazione delle reliquie di San Marco ad Alessandria nel 1828 29 come raccontato nella leggenda aurea di Jacopo da Vauragine l'apparizione miracolosa di San Marco portò la nave colpita dalla tempesta in salvo alle isole all'isola vicina nel rinascimento veneziano la rappresentazione più degna di nota a mio avviso è una tempesta in mare di una tempesta in mare è la tempesta di Palma il Vecchio commissionato per l'albergo della scuola grande di San Marco ambientato in un ciclo di scene urbane relativamente statiche questa terribile tempesta avrebbe attirato immediatamente l'attenzione dello spettatore della sua posizione diagonale di fronte alla porta il soggetto raramente dipinto mostra i tre santi Marco Nicola e Giorgio mentre salvano una nave con a bordo dei demoni intenti a inondare la città di Venezia apparentemente lasciata incompiuta l'opera fu portata a termine da Paris Bordone che sembra aver dipinto la sezione in alto a destra cioè questa parte qui mentre il pesce San Pietro qui in fondo aggiunto nel diciannovesimo secolo in basso a sinistra prende il posto di una porta precedente Palma sfrutta l'energia della sua pennellata libera per simulare l'acqua ondosa creando creste spumeggianti e profondità di un verde intenso il dipinto fece una profonda impressione su Vasari che scrisse un encomio a tutta pagina Vasari lo descrisse come segue cito una parte della descrizione una bellissima storia nella quale si vede finto dal Palma una orribile tempesta di mare ed alcune barche combattute dalla fura dei venti fatte con molto giudizio e con belle considerazioni siccome anche un gruppo di figure in aria e diverse forme di demoni che soffiano a guisa di venti nelle barche che andando a remi sforzandosi con vari modi di rompere le inimiche ed altissime onde stanno per sommergersi insomma quest'opera per vero dire è tale e si bella per invenzione e per altro che pare quasi impossibile che colore e pennello adoperati da mani ancora eccellenti possino esprimere alcuna cosa più simile al vero e poi continua in questo modo ma ho deciso di finire qui nella sua prima edizione nel 1550 Vasari attribuì il dipinto a Giorgione tale era l'originalità di questa scena tempestosa Giorgione come artista di tempesta come sapete Palma sfrutta brillantemente la fluidità della pittura ad olio che come l'acqua è allo stesso tempo traslucida e riflettente il dipinto non è datato ma sembra essere stato commissionato intorno al 1514 15 Philip Sohm ha collegato la scelta del soggetto agli eventi traumatici delle guerre della lega di Cambrai come ha osservato il diarista Girolamo Piuli nel 1509 cito volendo dire il vero non si troveria persona al mondo che mai avesse giudicato che il stato veneto di terraferma fosse stato perduto e ruinato in giorni 15 come si vede fine citazione come in un ex voto dipinto la scena registra l'intervento miracoloso apparamente divino che salva lo stato veneziano dall'annientamento protette dalle acque della laguna anche Tiziano sembra essere stato ispirato da questa terrificante situazione delle guerre di Cambrai quando creò la sua straordinaria asilografia della traversata del Mar Rosso come suggerirono per la prima volta David Rosand e Michelangelo Muraro composta da dodici sezioni e realizzato parimenti intorno al 1514-15 la zilografia comprende due blocchi costruiti quasi interamente da onde che rotolano attraverso lo spazio pittorico e si trasformano a spirale in vortici sulla riva il silenzio eloquente degli spazi vuoti suggerisce la caduta della luce lucenaria sulle creste mentre le fluide linee curve tracciano con sicurezza la traiettoria delle onde messe a confronto con questa energia pittorica del mare in tempesta le acque delle zilografie di Roivi che abbiamo già visto sembrano docili e prosaiche nelle loro linee ondulate schematiche come virgole staccate la giovinezza di Tiziano in cadore lo aveva reso familiare con il fiume Piave e il suo flusso rapido mentre il suo giardino a Venezia si affacciava sulla laguna veneziana eppure queste onde tempestuose sembrano suggerire un'esperienza diretta del mare aperto il potere conferito da Dio a Mose di determinare il destino del suo popolo attraverso il controllo delle onde suggerisce il potere della Repubblica di vincere le avversità attraverso il loro governo sul mare la scelta dei soggetti marini in entrambe queste opere commissionate per commemorare la sopravvivenza quasi miracolosa di Venezia quando attaccata in terraferma merita qualche riflessione nel suo discorso nel 1509 dopo il disastro della battaglia di Agnadello il doge Loredan incolpò la negligenza dei veneziani nei confronti del loro radicato orientamento marittimo cito il che non ci avviene nelle cose del mare che soprattutto ne siamo maestri e per noi stessi di vero zelo facciamo le cose nostre ne si sa quale sciocchezza mai ci abbia tolti dal mare e rivolti alla terra essendoci stato lasciato quasi per eredità dai nostri primi padri il navigare fine citazione in mare i veneziani non avevano bisogno di condottieri e potevano controllare le proprie navi più avanti nel secolo la rappresentazione di Veronese della battaglia di Lepanto riflette allo stesso modo la credenza della protezione divina ma il mare è così pieno di navi che l'acqua stessa è appena protagonista nel drama più tardi nella sua vita Tiziano raccolse lo stesso tema del divino salvataggio dal pericolo in mare nel suo bellissimo Perseo e Andromeda dipinto per Filippo secondo re di Spagna raffigurante una scena familiare nelle metamorfosi di Ovidio Tiziano dipinge Perseo che scende drammaticamente dall'alto per uccidere il mostro marino nelle parole di Ovidio cito scrosciarono le onde e apparve un mostro che avanzando si ergeva sull'immensità del mare fine citazione lo scroscio delle onde sembra quasi udibile suscitato dalla forma contorta della creatura lo spruzzo applicato in bianco con un pennello asciutto si sparge sulla profondità inchiostrate del mare di Tiziano dove il colore verde scuro è densa e lucente in parallelo comunque un tipo di paesaggio marino diverso e più solleggiato caratterizzata in pittura veneziana caratterizza la pittura veneziana del sedicesimo secolo nel suo bacco e ariana il mare calmo si adice all'umore festoso del quadro la sua superficie riflette l'intenso azzurro ultramarino del cielo anche se il rapporto di restauro della National Gallery ha dimostrato che il mare come il lontano paesaggio è stato dipinto non in ultramarino ma in azurite per dare una sfumatura leggermente più verdastra sullo sfondo di destra della minuscola grande così immagine di lotto di San Giacomo Maggiore una vela bianca su liscio mare azzurro segnala la nave che trasportava le reliquie del santo attraverso il Mediterraneo come raccontata nella leggenda aurea nel ratto d'Europa di Tiziano dipinto ugualmente per Filippo II i drappeggi volanti e le nuvole fluttuanti suggeriscono un forte vento ma il mare è liscio e luminoso e la lontana nave incorniciata in grembo di Europa sembra navigare in sicurezza la vigorosa pennellata di Tintoretto sembrerebbe adattarsi perfettamente ai pasaggi marini ma nella sua creazione dei pesci sono soprattutto i pesci che catturano la sua immaginazione forse un ricordo del mosaico di San Marco già visto nel diciassettesimo secolo l'apice del potere marittimo veneziano andava scemandosi come abbiamo sentito ovviamente e gli ottomani sfidarono il dominio veneziano dell'Adriatico e dell'Egeo i rischi del commercio a questo punto sembravano meno attraenti degli investimenti in terraferma e il numero dei mercanti che si avventurava o tremare continuava a diminuire come abbiamo sentito intanto la vita marittima cominciava a ritirarsi nella fantasia man mano che l'opera lirica si stabiliva a Venezia le tecniche teatrali barocche cominciavano ad evolversi così da poter rappresentare i paesaggi marini gli apparati per creare onde che si usavano in soffietto che usavano il soffietto o le ruote per mettere in moto dei drappi sono ancora conservati nei teatri di Ceschi Krumlov e Drotningholm a Roma si dice che Bernini abbia terrorizzato il pubblico con il suo apparato teatrale per l'inondazione del Tevere le scene marittime erano uno degli undici tipi di scene standard in uso nell'opera veneziana del XVII secolo come spiega il trattato francese di menestrie quelle rappresentavano il mare le navi le galee i porti le isole le rocce le tempeste i naufragi i mostri marini e le battaglie marittime le scene di Torelli per l'opera Bellerofonte di Vincenzo Nolfi eseguite nel 1642 su musiche di Francesco Sacrati al Teatro Novissimo a Venezia comprendevano una scena portuale con mare mosso probabilmente dipinta sul palcoscenico nel prologo al comando di Nettuno cito un modello squisito e realistico di Venezia emersi dal mare come per magia contemporaneamente in pittura le verdute urbane e paesaggi di campagna ecclissavano i soggetti marini a cavallo del diciottesimo secolo nei suoi schizzi di navi Luca Carlevares mostrava una rara sensibilità per come la luce cadeva sul mare sebbene nei suoi dipinti le acque della laguna fossero lisce e verdi sviluppando questo genere di festose scene veneziane i primi lavori di canaletto dimostravano un'osservazione diretta e spontanea delle mutevole condizioni meteorologiche usando la trasparenza della pittura ad olio per suggerire sia la profondità che la brillantezza dell'acqua nella sua carriera successiva tuttavia adottò una scorciatoia dipingendo serie di archi bianchi staccati per suggerire le onde nel bacino è come se si basasse sull'insistente regolarità di questi archetti per innescare l'immaginazione dello spettatore ormai il pericolo del naufragio era svanito nella memoria storica ma le evocazioni delle tempeste erano frequenti nella musica barocca attingendo alle drammatiche risonanze di tormentate armonie e ritmi complessi come nel concerto per flauto di Vivaldi la tempesta di mare composta alla fine degli anni venti del settecento il genere della tempesta attraverso la musica il genere della tempesta attraversò la musica il teatro e la letteratura più tardi nel secolo intorno al mille settecentos sessantacinque o settanta anche Francesco Guardi sfruttò le possibilità espressive della sua pennellata libera per rappresentare una drammatica tempesta di mare ora a Milano per concludere abbiamo visto che la cultura veneziana è stata infusa di tradizioni marittime sin dall'inizio il mare aveva dato alla luce la città come aveva dato vita a Venere e le sue maree ne dettavano la quotidianità come oggi in mare i mercanti marinai e i pellegrini erano esposti a forze della natura più potenti di loro stessi e giocavano d'azzardo contro il destino in ogni viaggio il rischio era sempre presente e l'equilibrio fra trionfo e disastro doveva essere continuamente rinegoziato sia i pericoli che i premi hanno trovato la loro espressione nell'arte come nella vita oscillando tra gli estremi opposti della catastrofe e del successo la marineria ha influenzato tutti cinque i sensi e ha provocato emozioni che hanno trovato espressioni nel testo nell'immagine e nella musica proprio mentre l'odore del pesce fritto e delle alghe si diffondevano nelle nebbie alla chiusura dei Vespri di Monteverdi del 1610 il bellissimo inno Aves della Mares dell'ottavo secolo risuona con la convinzione che la Vergine potesse proteggere la città l'abilità nautica poteva affrontare le forze dalla natura ma alla fine il loro destino era oltre il controllo umano e affidato nelle mani di Dio grazie grazie professoressa scusate per questo intervento così ricco di suggestioni e che ha la base una ricerca notevolissima ora i tempi sarebbero piuttosto stretti in quanto stando all'appunto che mi è stato consegnato la colazione di lavoro dovrebbe cominciare tra tre minuti e quindi non credo che ci sia la possibilità di un dibattito sulle relazioni di questa mattina e passo direttamente alle conclusioni che il programma prevede che è affidato un po' sconsideratamente dal sottoscritto sconsideratamente perché non sono uno storico del medioevo assolutamente e anche l'età moderna l'ha frequentata soprattutto riguardo al settecento vorrei comunque riprendere partendo da cose che conosco alcuni dei temi sono stati prospettati e fin dalla prima seduta c'è stato un tentativo di trovare una formula efficace per definire il rapporto di Venezia col mare e coi domini d'oltremare in modo particolare si è parlato di spazio condiviso di Camoel si è negata la formula cara ancora accessi dell'impero coloniale ora dal mio modesto punto di vista credo che sia un'illusione quella di trovare una formula pregnante che vada bene Venezia è una città che ha una storia estremamente contraddittoria in cui sono aspetti diciamo coloniali e aspetti di spazi controvisi volendo adoperare le formule e è una tesi che proverò a affermare partendo appunto da due esempi patrizio che mi è stato molto caro per il quale ho scritto anche la voce per il dizionario biografico degli italiani Giacomo Nani che tra l'altro nacque qua vicino nella parochia di San Maurizio e apparteneva al ramo maggiore che poi erediterà nel palazzo di Santrovaso era il terzo di quattro fratelli e stando alle strategie familiari fu deciso che facesse l'ufficiale di marina diciamo così fu nobile di galera di nave governatore di nave patrona almirante capitano delle navi e poi dopo parecchi anni provveditore generale da mare quindi percorsa tutta la carriera dedicando al fratello bernardo che era invece un membro della consulta dei savi fu per molti anni sabio cassiera il ministro delle finanze e poi sabio del consiglio un'opera sulla difesa di venezia era un apax assolutamente nessuno aveva scritto fino allora sulla difesa di venezia perché si pensava che il mare la preservasse ma Giacomo Lanni è stato molto colpito per quello che stava combinando all'inizio della guerra di sette anni Federico secondo assediando Praga eccetera e quindi decide di scrivere quest'opera e la dedica appunto al fratello nella dedica scrive per colpa non sua iscritto ad una inerte e oziosa milizia la strada del mare non mi piace né mai mi piacque la definisce un'inutile fatica travaglio di animo e di corpo quindi c'è apparentemente un rifiuto brutale di questa un altro passo scrive a Venezia odiano le cose di mare quindi siamo su una posizione che apparentemente di rifiuto assolutamente del mare ma neanche non è che sia bilanciata da interessi terrieri o così via e però Nani è quello che dedica la maggior parte del suo tempo a un'opera monumentale sono cinque tomi tra i quali metterà come quinto a difesa di Venezia alle memorie sopra le militari imprese dei veneziani quindi è la massima celebrazione della storia navale uno di questi tomi si chiama Memorie manoscritte per servire alla storia militare marittima della Repubblica esprime appunto con questa sua attività di ricerca scientifica un amore per le imprese militari imprese veneziane poi sono appunto l'istoria militare marittima quella terrestre non dedica nessun passaggio che appare ha fatto impressionante nel 1796 siamo alla caduta della Repubblica Nani essendo sopravvissuto al cugino Angelo Emo che si era illustrato con la guerra contro Tunisi viene scelto come provveditore alle lagune ai Lidi cioè colui che deve difendere Venezia dall'invasione duplice francesi da una parte austriaci dall'altra e però Nani ha i suoi anni e nell'aprile all'inizio dell'aprile del 1797 muore e la storia va avanti all'inizio di giugno Buonaparte che ha la testa dell'armene d'Italie dichiara guerra a Venezia Venezia cerca di evitare il conflitto gli manda un'ambasceria la quale cerca di trattare con Buonaparte ignorando che due mesi prima a Leoben Buonaparte si era già messo d'accordo con gli austriaci sul destino del Veneto che appunto era già stato ceduto all'impero e quindi non c'era nulla da fare ma Buonaparte prende in giro i tre ambasciatori veneziani sono stati mandati e gli pone un'alternativa cosa preferite preferite che Venezia venga democratizzata e unita alla terraferma che era già in corso di democratizzazione e ricreare una repubblica democratica con a capo Venezia oppure volete conservare il governo aristocratico limitato alla laguna e ai domini d'oltremare gli ambasciatori rimangono un po' esterefatti di fronte a questa scelta decidono di consultarsi con Venezia dopo di che danno la risposta e dicono per amore della pace accettiamo la democratizzazione un altro patrizio però che era diciamo osservatore di che si chiamava Giuseppe Priuli che era stato sabio alla scrittura cioè ministro della guerra del governo precedente e commenta che lui avrebbe invece fatto la scelta opposta che scrive Venezia non può esistere senza l'oltremare come lo può senza la terraferma quindi abbiamo ancora la fine della Repubblica un dibattito che non aveva nessuna importanza dal punto di vista effettivo però una contrapposizione radicale questo senso del mare è al centro di una mancanza di come dire di progetto complessivo di armonia perché le linee di divisione all'interno è lo stesso patriziato ma nei fatti stessi portano appunto ad avere questa immagine estremamente contraddittoria della storia di Venezia che non si diciamo non si supera neppure con la caduta della Repubblica stessa grazie breve prima di seguire il programma che appunto prevede la colazione di lavoro sapete il convegno ha una sorta di appendice alle 5 alla biblioteca nazionale marciana della sala libreria del San Sovino sarà esplorazione digitale dell'afro eurasia nella mappa mundi di Framauro ecco l'informazione è che si può accedere alla biblioteca nazionale marciana dall'ingresso in piazzetta San Marco al numero 13A di